Una giovane donna ha perso la vita in un incidente in autostrada nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e tre auto. Lo schianto è avvenuto tra Udine e Sud del Bivio e della A4-A23. E' attesa per domani la decisione della Corte di Cassazione sui domiciliari concessi a Francesco Mazzegare. Il reo confesso dell'uccisione di Nadia Orlando, la procura di Udine ha fatto ricorso contro la detenzione in casa della 36enne di Muzzana. Niente molto e fino al 3 aprile per quanti attraverseranno i varchi della ZTL di Udine senza autorizzazione. Il comune ha deciso di prolungare la fase di sperimentazione ma sta già pensando di installare altre telecamere in via Muratti e Tomadini. In occasione dei 40 anni di Telefriuli arrivano dal Brasile degli auguri molto speciali. Sono quelli di Zico e Amoroso che hanno inviato dal Sud America dei videomessaggi trasmessi ieri sera durante la puntata speciale di Bianco Nero. Il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino parla delle ambizioni dei bianconeri ma non si sbilancia sul futuro di Mr. Oddo legato al club fiulano fino al termine della stagione con opzione per la prossima. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura la cronaca con l'incidente mortale di questo pomeriggio in autostrada. È accaduto attorno alle 15. Lo scontro ha coinvolto tre auto, un autocarlo e un auto articolato. È successo tra Udine Sud e il bivio A4 e A23, tratto che è stato chiuso, così come il casello di Udine Sud in entrata per consentire lo sgombro dei mezzi incidentati. I soccorsi. Una giovane donna che viaggiava su un'auto con targa italiana ha perso la vita. Altre due persone rimaste incastrate tra le lamiere sono state portate in gravissime condizioni all'ospedale di Udine e Trieste, mentre altri due feriti lievi sono stati trasportati a Udine. Dalle prime ricostruzioni un furgone che arrivava da Udine ha urtato un'auto in un punto in cui c'erano dei rallentamenti, innescando un tamponamento a catena. Una delle vetture è finita sotto l'auto articolato che la precedeva. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici, l'elisoccorso e la polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con lunghe code. E bisognerà attendere ancora un giorno per conoscere la decisione della Corte di Cassazione in merito ai domiciliari concessi a Francesco Mazzega. Il 36enne di Muzzana, omicida reo confesso della fidanzata Nadia Orlando, la 21enne di Vidulis di Dignano, uccisa nella notte del 31 luglio. La sua scarcerazione era stata disposta dal Tribunale del Riesame di Trieste, che il 30 agosto aveva stabilito che non c'erano i presupposti per la sua detenzione in attesa di giudizio. Contro questa scelta la procura di Udine aveva presentato ricorso. Il caso è stato discusso questa mattina in Cassazione, ma l'esito è atteso con ogni probabilità per domani, quando il provvedimento sarà depositato in cancelleria. Il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso presentato dai pubblici ministeri friulani, mentre a difendere Mazzega c'erano i suoi due legali, Federico Carnelutti e Annaleda Galluzzo, che hanno chiesto un respingimento. Domani, in ogni caso, non cambierà nulla, spiega il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, se il nostro ricorso verrà respinto. Mazzega rimarrà ai domiciliari, mentre se fosse accolto, il suo fascicolo tornerebbe al Tribunale del Riesame di Trieste, che in una nuova composizione dovrà ridiscutere il caso. Torniamo ora a Udine per parlare dei varchi elettronici d'accesso alla ZTL. Le prime multe non fioccheranno se non dal 3 aprile in poi. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di prolungare la fase di sperimentazione, ma c'è chi è in città già scettico sul funzionamento delle telecamere. Sentiamo. Ci sono le telecamere che controllano ogni targa che passa per il centro storico. Secondo lei è un'idea che può funzionare? Boh, penso di no. Spero di sì io, perché sarà meglio per il centro. Entrano lo stesso, fanno quello che vogliono. Possono mettere qualsiasi cosa. Eh sì, è una cosa giusta. Avrebbero dovuto già farlo. Funzionerà o non funzionerà ancora, non è dato saperlo. Ma per il momento il sistema informatico a guardia dei varchi della ZTL a Udine si limita a registrare gli accessi, contandone più di 2.000 al giorno. Tanti, anche se per ora non si sa quanti di questi siano irregolari, invece quanti veicoli abbiano effettivamente regolare permesso. Infatti per ora la vigilanza della zona traffico limitato è ancora affidata agli occhi della polizia locale, mentre con il 28 febbraio gli occhi elettronici saranno perfettamente funzionanti. Le multe invece partiranno dal 3 aprile, prolungando la sperimentazione ed inserendo gradualmente nuovi permessi da richiedere online sia per i residenti che per i mezzi di carico e scarico. Nel 2016 le multe per sosta non autorizzate all'interno della zona traffico limitato furono oltre 3.500, quasi 10 al giorno. Ma con ogni probabilità molti furbetti sono sfuggiti. Da quando sarà in funzione nessuna targa verrà ignorata dall'occhio elettronico e chiunque non abbia l'autorizzazione si vedrà recapitare a casa la multa. La sperimentazione sta procedendo bene e abbiamo in progetto di aumentare i varchi controllati. Queste sono le parole dell'assessore comunale Enrico Pizza che traccia il bilancio di queste prime settimane del controllo degli ingressi alla ZTL. Sarà fondamentale, dice la zona di via Cavour. Stiamo pensando di installare telecamere anche in via Muratti e in via Tomadini. Le telecamere, l'ho sempre detto, non fanno altro che ricordare a tutti che per entrare in ZTL ci sono delle regole da 13 anni. Diciamo che in questo periodo forse più di qualcuno magari è andato a ripassarle. Noi abbiamo tutto pubblicato nel sito internet ma non abbiamo modificato le regole però cercheremo di garantire un maggior controllo. Sono stati rilevati tantissimi accessi, non si sa se tutti regolari o regolari. Quando si scoprirà questo? Quando partiranno le multe? Dai primi di aprile. Noi adesso stiamo costruendo il lavoro della Polizia Locale e dei sistemi informativi e quello di preparare la banca dati. Quindi diamo un suggerimento anche ai telespettatori di Telefriuli. Quindi chiunque abbia motivo e titolo per entrare in ZTL non deve fare altro che andare nel sito internet del comune o direttamente di persona in comando in Polizia Locale e compilare il modulo in modo da trasmettere la targa e far valere il proprio permesso. Ricordiamo al momento i varchi sono tre e ce ne saranno altri in futuro? Sicuramente ne abbiamo già in previsione alcuni perché la ZTL ha un perimetro, deve essere chiuso quindi la zona di via Cavour sarà fondamentale, ma abbiamo anche già lo studio e stanno già facendo il progetto per via Tomadini e in via Viola. Ancora un pedone investito a Udine mentre attraversava lungo le strisce pedonali. È successo questa mattina in Viale Ungheria all'altezza del civico 70. Una lancia Y che proveniva dal centro diretta verso Piazzale d'Annunzio ha urtato una donna di 40 anni che stava camminando. La signora è stata soccorsa dal personale del 118 sul posto della Polizia Locale che dovrà chiarire la dinamica dell'incidente. Un pensionato di 62 anni questa mattina a Fratta di Caneva è caduto mentre stava potando un albero nel cortile della propria abitazione. Nel volo da un'altezza di poco meno di due metri ha riportato traumi ed escoriazioni ma è rimasto sempre vigile. Immediata la richiesta d'aiuto al 112 sul posto del personale sanitario con l'elicottero del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Udine e poi le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. L'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione scende in campo a difesa del ruolo del Museo del Terremoto. C'è troppo materiale sulla ricostruzione che non ha ancora trovato spazio nella struttura di Venzone. Fuochi d'artificio per il quarantennale del terremoto del 76 e poi in silenzio. Fortunatamente a tenere acceso il lumicino ci siamo noi dell'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione. Così tuona il presidente onorario del sodalizio Franceschino Barazzutti che scende in campo a tutela ad un patrimonio unico come quello racchiuso a Venzone dal Museo del Terremoto. Vogliamo che tutto il materiale relativo alla ricostruzione sparso in tutta la regione trovi collocazione a Venzone che nella frazione di Portis ha ospitato tra l'altro la grande esercitazione a livello europeo, continua Barazzutti anticipando alcuni dei contenuti e delle richieste che saranno oggetto ad una conferenza stampa che l'Associazione ha indetto per venerdì prossimo a Udine nella sede della regione. Abbiamo digitalizzato già 500 dei 1600 progetti degli edifici catalogati in base all'articolo 8 della legge 30 del 77 perché considerati di valore storico e ambientale. Dobbiamo terminare l'operazione e siamo in attesa di poter ospitare anche tutto l'archivio del lavoro svolto dal commissario Zamberletti, continua Barazzutti puntando il dito contro la regione che non ha coinvolto l'Associazione nel recupero della documentazione della Segreteria Generale Straordinaria della ricostruzione finita in un capannone a gradisca. La regione ha incaricato l'Università di Udine di valorizzare questo materiale ma, conclude, l'Associazione in attesa di dare il proprio contributo di esperienza al momento non è stata coinvolta. Non vorremmo che il Museo di Venzone, unico in Europa, perdesse il ruolo di centro di riferimento e di interlocutore a livello internazionale per la ricostruzione. Giudizio positivo per l'Università di Udine che è stata accreditata dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione, Università e Ricerca, per 5 anni, cioè per la durata massima consentita dalla normativa vigente. L'accreditamento periodico delle sedi universitari e dei corsi di studio è un adempimento obbligatorio. L'ANVUR certifica il livello di qualità degli Atenei, valutando didattica, ricerca, trasferimento tecnologico, organizzazione e strutture e in base al livello di qualità misurato, conferisce o meno l'accreditamento, cioè l'autorizzazione a svolgere le proprie funzioni a livello di didattica, ricerca e terza missione. Il futuro della Eton di Monfalcone rimane appeso ad un filo e il sindaco Anna Cisint punta il dito contro i tantissimi stranieri impiegati nell'Isontino, mentre il nostro territorio, dice, piange per la mancanza di lavoro. Non è tutto negativo il futuro per la Eton, secondo il sindaco di Monfalcone Anna Cisint. Nel frattempo non è ancora stato convocato però il Consiglio Comunale per discutere nuovamente sul tema. Sono convinta che l'opzione 1, ovvero il mantenimento del sito e dell'attività, sia ancora da perseguire ma lo può fare soltanto il Ministero. Nell'occasione romana ho però percepito la poca possibilità, la poca autorevolezza che il nostro Paese ha nei confronti di queste situazioni, non vissute nello stesso modo all'estero. Io ho ben presente quello che la Germania ha fatto in una situazione analoga e di conseguenza sono rattristata nel comprendere che tutti coloro che arrivano in Italia ritengono di fare un po' il bello e il cattivo tempo. Detto questo, è anche molto importante però cominciare seriamente a ragionare sulle ricollocazioni per i casi possibili e quindi con un accordo che noi intravediamo, ma anche lì il MISE è fondamentale, con la grande azienda di questo territorio. Non è possibile più ormai sopportabile accettare che arrivino persone a lavorare da fuori quando questo territorio piange perché non ha la possibilità di farlo. Quindi un accordo, un tavolo serio perché si ragioni sullo sviluppo economico dell'Isontino e su tutte le persone, che sono tante, che oggi possono ancora dare al mondo del lavoro qualcosa. E' stato siglato un accordo oggi in Camera di Commercio a Udine che mira a porre rimedio alla situazione delle imprese under 35 in regione che per numero fanno sprofondare il Friuli Venezia Giulia alla fine della classifica nazionale. Sentiamo. Imparare a creare e a gestire un'azienda già dalle superiori. E' questo l'obiettivo dell'accordo tra le Camera di Commercio di Udine e Junior Achievement Italia. Il nostro scopo principale è quello di fornire un'educazione finanziaria, una stabilizzazione finanziaria, educazione all'imprenditorialità. I ragazzi sostanzialmente dall'inizio dell'anno scolastico fino alla fine dovranno andare a intercettare un bisogno, risolvere il bisogno attraverso la costituzione di un'azienda e quindi un prodotto, un servizio. Vengono aiutati in questa traduzione dall'idea alla fase imprenditoriale vera e propria quindi stiamo parlando seppur un ambiente protetto di un'impresa vera e propria vengono aiutati dai esperti d'azienda, quindi possono provenire dal mondo dell'industria, possono provenire dal mondo del commercio, possono provenire dal mondo dell'artigianato. Il progetto ha chiamato Imprese in Azione, solo uno dei modi della Camera Commercio di Udine per avvicinare i giovani al lavoro. Come incentiva le aziende per avviare i progetti di alternanza scuola-lavoro, il progetto Licei, che collega in rete aziende disposte ad innovare gli istituti scolastici. Nella nostra regione è un po' il fanalino in coda fra imprese young, quindi sotto i 35 anni rispetto alle altre regioni. Voi sapete benissimo che nei nuovi compiti della Camera di Commercio uno delle principali attività sarà l'alternanza scuola-lavoro, compito che verrà svolto a livello nazionale di tutte le Camere, su questo noi già eravamo impegnati nel tempo passato, ma ancora più crediamo e c'è tutta una serie di attività. Oggi con Junior Achievement è un punto di partenza, un momento importante. Un nome e un logo troppo simili. Il colosso spagnolo della moda ricorre all'Unione Europea per rivendicare la proprietà intellettuale. Protagoniste di questa vicenda, Zara, l'industria di abbigliamento che fa capo alla multinazionale Inditex e Bazzara, la torrefazione triestina che esporta miscele di caffè, chiamata così dal cognome dei titolari. Quattro lettere in comune che a partire dal 2015 hanno scatenato una battaglia a tutela dei rispettivi marchi, nonostante le due imprese operino in settori merceologici molto differenti. Ad Aviano prenderà il via nelle prossime settimane l'ambulatorio di dermopigmentazione per tutti i pazienti oncologici seguiti sia al CRO sia all'ospedale civile di Pordenone. Il progetto nasce da una proposta di Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno di Pordenone, che si fa carico di sostenere le persone colpite dalla malattia, cercando di condividere i problemi e le preoccupazioni. Il tatuaggio terapeutico va distinto da quello puramente estetico e ha lo scopo di assicurare il benessere psicofisico dei pazienti, reduci da interventi di chirurgia e sedute di radioterapia. Ci spostiamo ora a Gorizia per vedere insieme le immagini del carnevale, con la partecipazione di tantissime famiglie, otto carri, decine di ballerini e tanti gruppi in maschera. Se il buongiorno si vede dal mattino, il Carnevale Isontino 2018 è destinato a prosperare. Infatti il primo appuntamento, quello a Goriziano, è stato un grande successo. Migliaia di persone si sono riversate sull'anello del capoluogo, in riva a Lisonzo per vedere i carri e i gruppi che hanno suscitato grande curiosità e soprattutto molto divertimento. La banda del Quaiat di Romance di Sonzo ha vinto per l'ennesima volta, il premio per i migliori costumi di gruppo. L'atmosfera, come potete vedere dalle immagini, era dedicata all'antico Giappone. Il primo classificato del gruppo carri e qui veramente ci vuole un attimo di saspo. Il primo premio va al gruppo di San Pelagio col Gattonos e i topi balla. Dai festeggiamenti per il Carnevale a quelli per i 40 anni di Telefriuli. Dal Brasile sono arrivati due video messaggi d'auguri dedicati alla nostra emittente davvero speciali. Sono stati proposti ieri sera durante la puntata speciale di Bianco Nero. Sono quelli di Zico e Amoroso. Mandi Furlan, sono Marcio Amoroso. Volevo fare gli auguri alla Telefriuli per questi 40 anni e dire che sono molto soddisfatto di fare questo video a voi. Un grande saluto a mio amico e un bacio a Lorenzo Pezziol, questa grandissima persona e uno dei grandi responsabili per questa televisione. Mandi Sividin, un bacio e tanti auguri alla Telefriuli. Cari amici del Telefriuli, è un piacere grande parlare per voi, fare i complimenti per i 40 anni di esistenza. Dico che nel periodo in cui abitavo Ugini sempre ha fatto grande amicizia con la gente del Telefriuli, in speciale con Lorenzo Pezziol e Carlo Casarsa. e ogni lunedì vedevo le partite dell'Uginese per registrare, per guardare i belli momenti che ho vissuto con l'Uginese. Magari possono venire tanti altri anni per la Telefriuli stare sempre attenta e sempre fare dei belli servizi per la gente friulana. Un bello 2018 per tutti e mandi! Ed ora andiamo a vedere insieme la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini. L'Uginese ha ufficializzato oggi l'accordo con Macron, azienda italiana leader nella produzione d'abbigliamento sportivo. Macron rivela HS in qualità di sponsor tecnico e fornirà quindi alla prima squadra bianconera, al settore giovanile e alle affiliate, l'abbigliamento tecnico per i prossimi sei anni. Una scelta strategica, detto il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino, che darà maggiore visibilità internazionale alla società friulana. Un accordo giunto dopo un lungo corteggiamento da parte dell'azienda che già sponsorizza altri 50 club, di cui 4 in Serie A. E a margine di questa conferenza stampa, il DG bianconero Collavino ha parlato a Telefriuli delle ambizioni dell'Udinese e anche del futuro di Massimo Oddo, legato al club friulano fino al termine della stagione, con opzione per la prossima. Sentiamolo nell'intervista di Monica Tosolini. Ci si crede un po' di più anche perché c'è stata una continuità di risultati, una qualità anche delle prestazioni che è nettamente migliorata rispetto alla prima parte del campionato. Per quanto riguarda gli obiettivi, noi come Udinese Calcio abbiamo sempre fatto delle comunicazioni molto trasparenti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di migliorare la stagione scorsa, che comunque era una stagione all'interno della quale avevamo ottenuto una salvezza con 6-7 domeniche di anticipo. Oggi vogliamo migliorare questo. Migliorare questo significa potersi stabilmente posizionare nella colonna di sinistra della classifica. Direi che ci siamo ed è un obiettivo che riteniamo di poter portare a casa. Poi stiamo a vedere, perché se poi a 6-7 domeniche dalla fine saremo a questo punto, poi ci divertiremo. Un argomento che sta cominciando a uscire tra i tifosi è quello della conferma di Mr. Oddo. Nel senso che lui ha un contratto fino a fine stagione con opzione per il prossimo. Immagino che l'Udinese voglia puntare su di lui, visto quello che sta dando e che sembra poter dare. È prematuro anticipare i tempi, però giustamente lei ha correttamente sottolineato le caratteristiche dell'accordo con Oddo. L'Udinese dispone di un diritto di opzione. Questo diritto di opzione potrà essere esercitato a fine campionato. Adesso non ha senso anticipare le tempistiche rispetto a questo, però è evidente che se le condizioni sono queste va tutto nella direzione di un rinnovo e di un prolungamento del rapporto. 240 concorrenti e 44 coppie hanno dato vita sabato ad una serata indimenticabile sulle nevi del Varmos con due gare organizzate dalla società sportiva fornese. Più di slivel, poi compagnie e poi divertimento. Era la promessa fatta da Ivan D'Andrea ed è stata mantenuta la ski raid da lui ideata abbinata alla sedicesima edizione della ski crono Varmosta è stata un successo. Serata perfetta, sabato dopo le montanti nevicate della vigilia, in 240 si sono presentati al via da Trivenedo, Austria e Slovenia per risalire la pista del Varmosta fuori di sopra. Attrezzati di sci, bastoncini, pelli di foca o ciaspo le hanno dato vita l'ormai classica crono scalata che dal paese li ha condotti fino a 1750 metri di quota. 44 invece le coppie che si sono sfidate nel primo ski raid ideato appunto dall'ex ballerino vincitore di Amici oggi appassionato sportivo. Per loro subito 1200 metri di slivello positivo senza sosta fino a raggiungere quota 2070 alla partenza della pista da sci più alta della regione. Poi la discesa fino a Sompicola, il rondò e due nuove risalite per concludere sullo stesso percorso e traguardo della sci crono. I migliori sono stati Marco del Missiere e Giuseppe della Mea al maschile tra le donne vittoria per la coppia Cecilia De Filippo e Martina De Silvestro. La crono scalata verticale è stata vinta da Giovanni De Bon e dall'azzurra Alba De Silvestro mentre nelle ciaspe i più veloci sono stati Cristian Zarabara e Susanna De Giorgio. Il trofeo Claudia Corisello al tempo medio tra i concorrenti del soccorso alpino è stato vinto da Daniel Clama. E siamo ora all'Atletica regionale. Hanno esordito al Palendor di Udini i cadetti di ragazzi in questa stagione. Tanti buoni risultati, anche se è mancato l'acuto sperato. A riscuotere maggiore approvazione è stata già da Bressan della Trieste Trasporti che ha vinto i 60 ed i 60 ostacoli piazzando l'ottavo tempo all-time tra le barriere. Ginevra Pase nel salto in alto arriva a 1,56 intascando il personal best, stessa misura raggiunta da Alice Dodorico. Strano inconveniente per Alessandro Padovan, vice campione italiano dell'Asta. I suoi attrezzi non sono arrivati e quindi ha gareggiato nei 60 metri pure vincendoli davanti al favorito Thomas Siega. Tra gli Ander 14 da citare Chiara Grio e Andrea Moras, entrambi vincitori nei 60 ostacoli mentre Lorenzo De Martina arriva primo nel salto in alto. Contemporaneamente ad Ancorne sono svolti i campionati italiani indora a Vaionte il cross valevole per il campionato regionale master e a Casarsa con il campionato regionale studentesco di cross. Il prossimo weekend vedrà sfidarsi i lanciatori di Udine nella seconda prova del campionato invernale lanci mentre le categorie giovanili saranno impegnate a Maiano e quelle assolute a Mariano. Per tutti gli altri approfondimenti l'appuntamento è su Start con Renato Bonina alle 23. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo alle 20.45 l'appuntamento con l'informazione dalla nostra redazione di Pordenone e poi non perdete domani mattina l'appuntamento con Ore 7. Buon proseguimento di serata, arrivederci. Buon proseguimento di serata, arrivederci.